È la prima giornata di preghiera per vittime sopravvissuti agli abusi, a istituirla alla Conferenza Episcopale Italiana, fissandola alla data del 18 novembre, in corrispondenza della Giornata Europea per la Protezione dei Minori contro l'abuso sessuale. Numerose le iniziative diocesane promosse, già sabato scorso a Bologna, appuntamento dal titolo Minori e persone vulnerabili, ma soprattutto stasera, da Milano a Ragusa, le diocesi si riuniscono in vegli di preghiera o convegni, in corso in questi minuti quello promosso dalla diocesi di Bolzano, Coraggio, parliamone, durante il quale stanno trovando voce anche alcune vittime. Le ferite non vanno in prescrizione mai. Le storie di abuso, anche se molto lontane nel tempo, sono importanti, tanto come quelle successe oggi. Senso della giornata, sostenere i cammini di recupero dei sopravvissuti da chiunque siano stati feriti dentro e fuori la chiesa, spiega una nota del Servizio Nazionale CEI, ma soprattutto promuovere prevenzione perché non accada mai più. Nelle diocesi italiane oggi ci sono ovunque delle persone incaricate, i referenti diocesani, che o personalmente o tramite i centri di ascolto per i minori sono disponibili ad accogliere persone che vogliono segnalare o denunciare alle autorità pubbliche come si sono impegnati a fare i vescovi nei confronti di tutte le persone che possono aver subito abusi.